Ma cosa ho trovato qui? Ho trovato delle cose completamente senza senso come dice il titolo e non so perché vi è piaciuto lo scorso episodio quindi chiaramente io ve lo posso riportare ovviamente Beh qua effettivamente abbiamo tipo degli ascensori senza ovviamente nessun senso messi qua e quindi proviamo a scendere e quindi però io adesso come faccio a salire di nuovo? Dai devo arrivare fin lì ma che pizza non c'è troppo lenta ok come al solito senza senso alla fine qua c'erano ascensori quindi non bisognava arrivare fino dall'altra parte ovviamente sì sì no ma tanto senso intanto tu continua a prendermi in giro minecraft continua sì 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 no va bene va bene Se in miniera ma non hai il piccone per scavare beh chiaramente ti ritroverai questa cassa piena di pesci senza senso e ovviamente il piccone non piccone perché ovviamente questo qua non si può craftare nonostante io comunque non abbia il legno e già questo è un problema Però non potrai mai prendere il carbone con delle slab perché queste qua sono slab non ci puoi craftare un cavolo di piccone con le slab ovviamente lo sanno tutti non si sa perché però qua c'era effettivamente un pesce che alla fine è vivo però io lo riprendo nel dubbio è giusto avercelo Stai camminando in uno di questi biomi e devi insomma incontrare una pozza di lava e per ovviamente evitarla cosa fai non è che puoi fare il giro no 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 non si può si devono prendere i glass panel o i glass normali chiaramente farsi un bel ponticino che ti porti in salvo dall'altra parte ovviamente tutti sanno che non è possibile fare altrimenti e se proprio muori chiaramente dovresti utilizzare il pesce che ti era rimasto Tuttavia credo che adesso siano morti sia il pesce che me che l'acqua anche perché l'acqua è finita Fai schifo comunque pollo Volevo dirtelo Questi cosi sono inutili su minecraft inutili 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 Sapete cosa vuol dire che sono inutili cioè perché perché esistono perché esistono perché noi gli danno un senso ovviamente dobbiamo utilizzare la tndt per distruggerli Anche se scusate un attimo ma che cavolo perché mi hanno dato un divano per accendere una cavolo di tnt Stai girando su minecraft e tu da un tratto vedi un buco misterioso Quindi chiaramente ti serve un secchio d'acqua che io avevo ovviamente anche da prima E ti devi buttare ovviamente perché Ok avete visto ovviamente sono super pro lo sapete già su questa cosa Però qua vedete delle torce che vi portano verso una direzione E lì in fondo vedete una cesta Beh Soprattutto se si è messa così e se siete in compagnia di amici con un server eccetera Cercate di non aprire questa cesta perché succederà questo C'era solamente una redstone torce E poi per il resto farà boom E ovviamente Oh sa no 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 I signorini lì devono restare lì Che schifo no no che schifo vomito vomito addio ciao Scrivetevi al canale per favore Lasciate like E commentate con le vostre situazioni strane di minecraft